Girgenti Acque non ci sta a passare per quella che ha le colpe, specie quando colpe non ne ha. E in riferimento alla notizia di ieri riguardante una macchia scura comparsa nel mare di San Leone e denunciata dall'Associazione Mariamico, vuol fare delle precisazioni. Con quella comunicazione si alimenta il sospetto che la causa possa in qualche modo essere riconducibile agli impianti gestiti dalla Girgenti Acque. Nessun inconveniente, scrivono da Girgenti Acque, si è verificato lungo la rete fognaria o negli impianti di sollevamento gestiti dalla società. È il caso di rammentare che il cosiddetto pennello a mare, denominato padri vocazionisti, non è più in esercizio da oltre un anno ed è stato per di più sigillato dalla Procura della Repubblica. Anche la condotta sottomarina, un tempo alimentata dall'impianto di sollevamento, denominato pubblica sicurezza, continuano dalla società, è stata sigillata e pertanto anche da tale condotta non è possibile alcuno sversamento, nemmeno accidentale in mare. Gli altri impianti di sollevamento esistenti lungo la costa, peraltro continuamente monitorati dal personale della Girgenti Acque, precisano, sono dotati di allarmi ottici, acustici e telefonici e non hanno avuto alcun problema di funzionamento. Quindi Girgenti Acque si sente di escludere categoricamente qualsiasi responsabilità degli impianti fognari gestiti dalla società rispetto al fenomeno verificatosi nel mare di San Leone. Infine Girgenti Acque invita la cittadinanza e tutte le associazioni che si prefigono la tutela dell'ambiente e del mare in particolare a valutare con maggiore serenità quanto si verifica quotidianamente, evitando di ricondurre sempre e comunque al gestore degli impianti fognari tutti i fenomeni di inquinamento ambientale e marino. Grazie.